Giorgio Lupano, Stefano Loi in una serie tv Paura d'amare, ma Giorgio Lupano che rapporto ha con l'amore? Mi piacerebbe amare come si amano i nostri protagonisti, come Stefano e Asia, perché veramente loro sono fortunati. Nonostante tutto Remi Contro, tutto il mondo gli dice che non devono stare insieme e loro invece si amano per davvero e vogliono stare insieme nonostante tutto, nonostante tutti gli impedimenti, i sospetti, le mancanze di fiducia, i colpi di scena che ci sono. Secondo me quello è vero amore, è bellissimo. In che modo hai costruito il personaggio di Stefano Loi? Guarda, come tu ben sai, la prima serie ho saputo che l'avrei fatta una settimana prima dell'inizio delle riprese, è proprio uno di quei colpi di fortuna che ogni tanto capitano in questo lavoro. Allora da che cosa sono partito? Dall'unica cosa che ho in comune con Stefano Loi, io non ho i miliardi, non sono vedovo, non ho dei figli a cui badare, non ho delle aziende, ma sono torinese. Quindi c'è al centro della storia questa famiglia, i Loi sono una famiglia dell'alta borghesia torinese, che non conosco veramente, ma conosco la città, conosco quell'educazione che molti hanno a Torino, quell'eleganza, quel modo anche forse un po' ipocrita di gestire le relazioni, molto educato, molto perbene e in questo caso anche magari un po' estremizzato perché il bello era il contrasto anche fra appunto Stefano Loi che era descritto in questo modo e il personaggio di Asia che invece era completamente anticonformista eccetera. E per una banalissima legge secondo la quale gli opposti si attraggono la prima serie è anche finita bene. Quindi sono partito da questo, dalla mia città e dalla educazione che in qualche modo io ho avuto, dall'aria che ho respirato, io ho fatto delle scuole dai salesiani per dire in un istituto tecnico industriale, quindi era proprio il massimo del rigore, della disciplina e ho immaginato che anche il nostro protagonista potesse avere quel tipo di educazione lì che lo rendeva un po' rigido, un po' bacchettone, ma pronto anche a sciogliersi di fronte ovviamente all'incontro con la nostra Erika Banchi. La scena che ti ha emozionato particolarmente della serie, qual è stata? Nella prima c'era una lunga scena durante una di queste feste meravigliose dove spesso troviamo i Loi, sembra che non facciamo altro che andare a feste o a riunioni in fabbrica o a risolvere problemi di ordine sentimentale. C'era una festa in cui io cerco Asia, non la trovo in nessun modo e poi la trovo su un balcone e c'è un lungo bacio. Una scena muta in cui però viene raccontato tutto il mondo di Stefano Loi, tutta questa borghesia torinese e viene raccontata anche l'attrazione tra questi due personaggi. Si cercano, si sfuggono in qualche modo e poi si trovano, c'è questo lunghissimo bacio. Stefano e Asia si sono giurati amore eterno ma essendo una serie, una fiction, un romanzo popolare non basta dirsi ti amo, anch'io ti amo per poi vivere felici e contenti. Ovviamente la seconda serie comincia al terzo minuto con un colpo di scena che rovescia tutto quanto e la storia ricomincia. In questa seconda serie noi vediamo i nostri due protagonisti alle prese con il lavoro che si fa per formare una famiglia, per mettere insieme una famiglia, per formare una coppia. Loro nel frattempo hanno anche avuto un figlio che è il terzo per me. Però non è sempre facile, anzi non è mai facile stare insieme a una persona e quindi bisogna avere a che fare con la mancanza di fiducia, con il dedicare il proprio tempo o parte del proprio tempo e dei propri spazi all'altra persona, con il sospetto che l'altra persona non sia esattamente come tu ti aspetti, come tu credi che sia. E ovviamente noi dovremmo fare i conti con tutto questo, anche perché alle nostre spalle, nell'ombra, c'è chi trama contro la buona Elide, la donna che tutti amerebbero strangolare con le proprie maniche, fa di tutto per appunto instillare sospetti nell'uno e nell'altra, per separare questa coppia. Noi dobbiamo riconquistare la fiducia reciproca, c'è una scena che abbiamo girato a Belgrado una sera in un bar, che è semplicissima, sono pochissime battute in cui loro due si guardano disfatti dopo una notte in bianco, dopo essere stati lontani eccetera e si dicono semplicemente ci amiamo e se due persone si amano e se lo dicono guardandosi negli occhi, il resto appunto è meno importante e questa scena è stata veramente provata a lungo, è stata ben girata in un silenzio irreale e alla fine c'era tutta la truppa, quindi i truccatori, i parrucchieri, i macchinisti, anche quelli serbi che non capivano cosa stia succedendo, che alla fine ci guardavano innamorati tutti quanti, per cui quel giorno sul set pochissimi avevano paura di amare, era bella. Ti sei ispirato a qualche attore o personaggio particolare per Stefano Lloyd? Durante il primo polo di amare, poi il personaggio è rimasto più o meno quello, però mi ricordo che Terracciano, perché c'era anche un regista, insomma per cui ovviamente non è che facciamo tutto da soli, e lui mi chiedeva sempre di pensare di avere sotto la giacca, lo smoky, insomma di avere un bastone di una scopa legato alla schiena, per stare dritto, rigido, impettito, pure troppo se vogliamo certe volte, però quel tipo di personaggio lì, oggi non lo vediamo più tanto nelle fiction, però si può vedere magari in qualche film di quelli dell'epoca d'oro hollywoodiana, quindi penso a Carrie Grant, di Un marito per cinzia, o quelle commedie dove c'era sempre il protagonista molto elegante, molto formale, che magari aveva a che fare con una pazza scuinternata, eccetera, ad esempio. Poi la nostra non è una commedia, in realtà è più sul versante appunto dramma, familiare o storia d'amore, però ecco se devo, se posso aver pensato, ma poi il tempo è stato talmente poco, anche per quanto riguarda la prima serie, sai scelto e buttato sul set, c'è stato poco tempo per pensare, però questo tipo di riferimento sicuramente ho tenuto presente. Perché il pubblico dovrebbe vedere Paura di Amare? Tre aggettivi. Perché è bello, perché il pubblico in realtà ha dimostrato in questi tre anni di non essersi mai dimenticato di Paura di Amare, perché anche quando, a parte il successo che ha avuto la serie quando era tenuta da tre anni fa, ma anche quando è stata mandata in replica sui canali satellitari o sulla Rai, ha sempre avuto successo, la gente l'ha sempre seguita. L'anno scorso lo sai che è andata su Rai Sat Premium, ha fatto il record d'ascolti della rete d'estate, quindi la gente in qualche modo l'amata e continua ad amarla, la sta aspettando, certo l'ha aspetta da tre anni, vediamo come sarà accolta, certamente la deve vedere, la deve vedere se vuole ovviamente vedere, perché ci sono tutti gli ingredienti che hanno decretato il successo della prima serie e quindi c'è una grandissima dose di passione e sentimento, unita a un contesto che sembra scritto apposta per far sognare, quindi non mancheranno anche qua gli ambienti bellissimi, perfetti, le feste in cui questi personaggi si muovono, gli aerei privati, le location pazzesche, abbiamo girato in Tunisia, abbiamo girato in posti esotici, quindi è una gioia anche per gli occhi, oltre che per il cuore e speriamo anche per il cervello. Grazie.